Spesso anche negli alberghi più, credo uno dei più belli alberghi del mondo, ma non c'è il bidet. Allora è diventa una cosa, sembra una cosa brutta da dire, ma c'è una cosa brutta. Gli italiani sanno il bidet e molti non ce l'hanno. Io sono stato, dopo tre giorni che lavoravo in diversi disagi, in questo bellissimo albergo, un giorno un mio amico che è venuto a fare la pipì da me, stranamente da fare la pipì, e ha adocchiato un telecomando dietro il water e questo telecomando è aperto, un nuovo mondo. Potevo fare quello che volevi col telecomando, potevi volare via sul cesso, potevi fare delle cose, usciva da qualunque cosa e da qualunque parte. Questo per dire che livello di produzione siamo arrivati. Se abbiamo bypassato il bidet, siamo arrivati a telecomandi che possono fare delle cose in soluzione del bidet.